Bentornati amici o benvenuti nel mio canale, io sono Elisa e oggi video alla scoperta del makeup low cost Ebbene sì ragazzi e ragazzi, finalmente anch'io posso provare il makeup Shiglam che è la linea makeup della famosissima Shein o Shein io non ho mai capito come si pronunci correttamente cioè il famosissimo sito cinese da cui tutti ormai abbiamo acquistato almeno un vestito, un abito, un maglione o qualcosa del genere circa un paio di settimane fa sono stata contattata dal brand nella persona di Lucia che ringrazio tantissimo che mi ha dato l'opportunità di provare la loro nuova collezione Chromazon una collezione che si compone di prodotti dal finish duo chrome o trio chrome e io vi annuncio già che sento odore di dupe, di prodotti molto più costosi quindi non perdiamo ulteriore tempo e iniziamo subito a provare questa collezione come sempre inizio dal makeup occhi e ho due possibilità di scelta per il makeup occhi infatti mi hanno inviato queste due palettine che potete trovare appunto nella collezione che sono nella colorazione time wrap e velocity questo è il loro nome e adesso ve le mostro meglio come vedete anche i packaging sono tutti nel mood duo chrome o trio chrome e la palettina che vi sto mostrando adesso è la time wrap come vedete i colori predominanti di questa palette sono sicuramente quelli del verde e dell'oro anche se tutto sommato la trovo una palettina piccina ma abbastanza completa perché vedete che ci sono sia colori particolari duo chrome o shimmer che colori matte l'altra palettina invece è lei ed è velocity e contiene tutte queste tonalità forse un pochino più fredde fatta eccezione per questa cialdina e a colpo d'occhio forse la palettina che mi piace di più ma devo ancora decidere che cosa utilizzerò per questo makeup questo colore che voi percepite in video come un blu o almeno io nell'anteprima della mia fotocamera lo vedo blu in realtà è un viola multisfaccettato io direi di fare degli swatch veloci di queste palettine e poi deciderò che cosa utilizzare per il look occhi ecco qua gli swatch fatti velocemente della palettina time wrap e devo dirvi che a primo impatto sono davvero impressionata dalla resa degli ombretti luminosi guardate quanto sono specchiati e sono soprattutto sorpresa dalla texture che risulta molto molto sottile anche i matti colori scuri sono molto performanti almeno swatchati sulla mano sono tutti molto scriventi e soprattutto non sono disomogenei cosa non scontata parlando di prodotti comunque low cost molto carina comunque la gamma cromatica di questa palette ed ecco qua gli swatch anche dell'altra versione quindi della palettina velocity io ragazze sono stra stupita anche da questi ombretti guardate che bello questo verde oro e anche il lilla blu di cui vi parlavo prima davvero bellissimi anche in questo caso i matt sono scriventi e pigmentati anche il nero non mi sembra per niente male come resa quindi sono abbastanza indecisa tra quale palette scegliere ma qui ci sono alcuni colori che mi chiamano a gran voce comunque eccovi le due palettine swatchate così giusto per farvele vedere entrambe vicine e sono davvero entrambe interessanti per mio gusto forse mi piace di più velocity io direi che inizierò il makeup utilizzando questa palette come al solito parto prendendo un colore matt rosato da sfumare nella piega quindi scelgo questo colore e vado a sfumarlo appunto nella piega beh direi che la scrivenza di questo ombretto è altissima è la prima volta che provo ombretti di questo brand e in generale ombretti di siti cinesi diciamo so che ci sono molte di voi che non si fidano di questo tipo di makeup perché hanno un po' paura che i prodotti non siano formulati in maniera corretta che non siano sicuri da utilizzare io ragazze vi dico non acquisto spesso appunto questa tipologia di prodotto ma non ho neanche un grosso pregiudizio anche perché la stragrande maggioranza di prodotti di brand anche molto molto famosi ormai vengono prodotti in Cina e quindi credo che in generale anche gli standard dei prodotti cinesi si sia comunque alzato e adeguato alla media dei prodotti europei o statunitensi quindi magari per il viso quindi per quanto riguarda fondotinta o cose che vanno direttamente a contatto con la nostra pelle che utilizziamo tutti i giorni non utilizzerei continuativamente magari un prodotto di brand estremamente low cost come potrebbe essere questo ma per quanto riguarda ad esempio gli ombretti o le matite che si utilizzano comunque a rotazione e una tantum io non mi sento di avere particolari remore quindi li utilizzo direi piuttosto tranquillamente proseguo il makeup con questo colore un pochino più scuro che metto nella parte finale dell'occhio lo sfumo un pochino qui nella piega anche per questo ombretto la scrivenza è molto alta io ho davvero prelevato una piccola quantità di prodotto e guardate quanto scrive ora ovviamente sfumo il tutto con un pennello da sfumatura e vi posso dire che anche sfumandolo il colore non rimane per niente a macchie anzi si sfuma molto molto facilmente io credo che lo possiate vedere anche voi dal video guardate si è sfumato facilissimamente e non ci sono assolutamente macchie ora porto un po' dello stesso colore anche sotto la rima e lo congiungo con la parte superiore in questo modo in modo da dare un continuum e in modo da allungare un po' l'occhio prendo ora un pennellino di precisione prendo il colore nero della palettina lo sfumo proprio all'attaccatura delle ciglia inferiori in questo modo continuo portando la linea verso l'esterno in modo da dare sempre un effetto allungato all'occhio ora prendo questo melanzana scuro un po' shimmer e inizio ad avvicinarmi alla parte centrale della mia palpebra lo metto qui insomma in questa zona qui vi segnalo un po' di fallout ora con un pennello piatto prendo il viola blu fotonico e lo metto nel secondo terzo dell'occhio vi faccio notare che non avevo primer occhi perché avevo da poco steso il correttore quindi non ho applicato primer lo avete visto anche voi e guardate la resa di questi ombretti quanto scrivono è un colore pazzesco io non so se potete percepirlo dal video ma ha una scrivenza pazzesca e soprattutto dei riflessi bellissimi è un colore super particolare guardate che bello è super pigmentato e scrivente io sono davvero impressionata dalla resa di questi ombretti ora visto che voglio creare un look comunque particolare avendo tra le mani una collezione come questa voglio mettere nella prima parte dell'occhio questo colore che è una specie di duochrome tra il verde e il viola voi lo percepite più che altro verde ma appunto ha un bellissimo effetto quasi scarabeo guardate che bello guardate la bellezza di questo ombretto riprendo un po' del viola ne riapplico un pizzico e lo sfumo dove i colori si congiungono beh direi che la resa di questi ombretti è già pazzesca così ma io ho degli assi nella manica da mostrarvi che sono forse i prodotti più interessanti di questa collezione anche se devo dirvi sono rimasta davvero molto stupita dalla resa di questi ombretti che sto provando per la prima volta in questo video con voi quindi è davvero una first impression e davvero una sorpresa anche per me la resa di questi ombretti che assolutamente non mi aspettavo davvero bellissimi e vi dicevo eccovi qua l'asso nella manica questi sono tre ombretti liquidi dall'effetto duochrome e triochrome che mi ricordano molto degli ombretti molto più costosi diciamo così e per prima cosa ora ve li swatcho e poi vediamo quale utilizzerò nel mio makeup ed eccovi qua i tre ombretti liquidi swatchati non riesco a farvi cogliere perfettamente tutti i meravigliosi riflessi di questi ombretti che sono dei duochrome pazzeschi ma la cosa che mi ha stupita di più è la texture di questo prodotto che è davvero molto molto sottile quindi non fa quel terribile effetto carta pecora che tutte odiamo ovviamente e la resa è molto molto luminosa questa è la colorazione opal essence che è un bianco con dei riflessi rosati bellissimi lui invece è fulls gold che è un duochrome verde oro anche se voi percepite solo il riflesso oro almeno io vedo solo quello dalla fotocamera mentre lui è acquanova che è un viola verde fotonico e bellissimo tra l'altro si asciugano anche in fretta e sembrano essere abbastanza resistenti anche quando si passa sopra il dito io oggi decido di applicare sulla parte iniziale del mio occhio lui che è acquanova intanto ne approfitto per mostrarvi anche l'applicatore che è un applicatore a spugnetta piatto come vedete parto applicandolo direttamente sull'ombretto direttamente con il suo applicatore in questo modo e poi tampono con il dito il colore si sposa perfettamente con quello in polvere che ho applicato prima ma come vedete questo occhio rispetto all'altro risulta molto più luminoso e più metallizzato nella parte centrale della mia palpebra mobile applico giusto un velo di opal essence che è appunto quello con i riflessi rosati per dare un po' di transizione lo applico così e lo sfumo leggermente ecco qua il risultato dal vivo è davvero pazzesco ragazzi mi piace tantissimo tra l'altro come vedete la palpebra non risulta per niente in carta pecorita nonostante vi assicuro io abbia stratificato abbastanza questi ombretti liquidi e sono davvero super impressionata dalla resa ma i prodotti che ho da mostrarvi non finiscono qui perché qui ho anche tre matite gel quindi tre matite eyeliner dalla formula in gel super scrivente anche in questo caso super riflessata vi faccio subito gli swatch dei tre colori innanzitutto mi soffermo un attimo sul packaging che è fatto in questo modo ed è in soft touch molto carino le matite sono delle classiche matite automatiche fatte in questo modo e sul retro abbiamo anche uno sfumino utile appunto per sfumare le matite le tre colorazioni riprendono ovviamente i colori e il mood di tutta la collezione e sono questi tre sono ovviamente anche in questo caso metallizzati e super riflessati davvero bellissime sono vi assicuro molto più belli tutti i prodotti molto più belli visti dal vivo che visti in video almeno ripeto come li percepisco io dall'anteprima perché non riesco a farvi cogliere tutti tutti i riflessi che invece ci sono assolutamente i tre colori si chiamano subliminal, zenith e vertigo e sono tutti e tre bellissimi io oggi scelgo di applicare nella rima interna la colorazione vertigo che è questa e vediamo se rendono bene anche nella rima interna la matita è super morbida e ha scritto benissimo e in maniera immediata nella rima interna e ha questo bellissimo riflesso violaceo che credo possiate cogliere che mi piace da impazzire questo è il risultato dopo aver applicato la matita nella rima interna io sono sconvolta dalla resa di questi prodotti guardate che effetto pazzesco ragazze ora ovviamente vado a completare il tutto con tanto tanto mascara e torno questo è il look occhi terminato anche con il mascara ci sarebbero state bene delle super mega ciglia finte ma sapete che io non sono bravissima ad applicarle comunque vi dico che sono stra stra stupita dalla resa di questi ombretti che è davvero bellissimo ovviamente il look che ho creato è un po' particolare però tutto sommato non lo trovo neanche troppo eccessivo le matite sono bellissime hanno questi riflessi che credo possiate cogliere sono bellissime anche utilizzate nella rima interna scrivono super bene e niente sono davvero super soddisfatta del risultato mi piace davvero moltissimo e non ero partita con delle aspettative altissime quindi sono davvero molto molto contenta mi rimane ancora un prodotto da mostrarvi che è un illuminante lui si chiama lucid e è un illuminante ovviamente anche in questo caso duochrome è un bianco con dei riflessi rosati adesso ve lo swatcho per farvi percepire meglio la bellezza guardate che belli riflessi di questa cialdina e ovviamente ora vado subito ad applicarlo è un illuminante che come vedete va dosato piuttosto bene perché l'effetto super metallizzato si nota davvero tantissimo e anche il riflesso rosato ovviamente si tratta di un illuminante non per un utilizzo quotidiano ma per completare un look particolare come quello che ho creato io è però davvero molto molto bello super riflessato e questi riflessi rosati che si percepiscono molto molto bene quando il prodotto viene colpito dalla luce a me piacciono davvero tanto ne applico un pizzico anche all'angolo interno dell'occhio perché credo che possa star bene con il look ecco qua il risultato io credo che abbia una pigmentazione tale da poter essere utilizzato anche come punto luce sugli occhi quindi come un ombretto luminoso perché è davvero molto riflessato e comunque la componente rosata si vede parecchio quindi può essere utilizzato anche sugli occhi ecco qua ho completato il look con un rossetto rosato piuttosto tranquillo perché già il resto è abbastanza carico quindi non ho voluto esagerare io non so voi ma sono davvero rimasta impressionata dalla resa di questi prodotti mi piace praticamente tutto quello che ho provato sia le palettine quindi sia gli ombretti in polvere che hanno un'ottima resa anche senza primer come avete potuto vedere gli ombretti liquidi sono bellissimi quindi se ne avete l'opportunità io vi consiglio di acquistarli di provarne almeno uno vi assicuro che non hanno niente da invidiare ai famosi ombretti di Natasha Denona e sono decisamente più low cost e quindi più abbordabili anche solo per utilizzarli magari in qualche occasione potete quindi investire una piccola cifra ad avere una resa davvero molto molto bella come vi ho detto prima non avevo grandissime aspettative invece sono rimasta molto piacevolmente colpita da tutto fatemi sapere cosa vi sembra di questo look che ho realizzato e cosa vi sembra della resa di questi prodotti io li super promuovo praticamente tutti vi lascio tutti i link utili per reperire questi prodotti giù nell'info box quindi mi raccomando andate a consultare l'info box vi lascio i link diretti appunto ai prodotti io vi invito assolutamente a provare almeno uno di questi prodotti e sono sicura che rimarrete altrettanto stupite così come sono rimasta io io come sempre spero che il video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia risultato interessante scoprire questi prodotti low cost mi avete chiesto di parlare anche di prodotti un pochino più economici questi lo sono assolutamente senza però rinunciare alla resa sono davvero impressionata ve lo ribadisco mi piace tutto ciò che ho provato ed è stata una scopertona per me niente io come al solito vi ringrazio per aver seguito anche questo video ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere tutte le prossime uscite attivate anche la campanellina perché youtube è un po' birichino non sempre vi avvisa dei nuovi contenuti che escono se non mi seguite ancora vi invito a venirmi a trovare anche su instagram mi trovate come laeliz in beauty io come al solito vi mando il mio mega bacione e sempre se vi va ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao